I carabinieri della stazione di Borgo Annunziata hanno denunciato un pregiudicato marsalese di 30 anni per il reato di furto aggravato. Dopo un'attenta attività investigativa, i carabinieri hanno individuato il disoccupato trentenne, quale probabile autore di alcuni furti emessi a segno a Trapani. L'indagine è scaturita da due denunce di furto presentate da altrettante vittime, che sono state derubate di uno scooter e di una bicicletta elettrica. Dagli accertamenti eseguiti dai carabinieri, escursione di testimoni e visione di immagini estrapolate da circuiti di videosorveglianza, sarebbe emerso come l'uomo in due diverse circostanze avrebbe asportato i due mezzi facendono perdere le tracce.